buon pomeriggio cari amiche e cari amici ho lanciato un sondaggio e vi do l'esito del sondaggio ho lanciato il sondaggio nel quale chiedevo ma è solo un caso che con il ritorno in campo parliamo di milanello ovviamente negli allenamenti di slatan ibrahimovic il milan abbia vinto tre partite 1 a 0 mostrando delle chiare crescite quanto a condizione e soprattutto condizione mentale applicazione e fiducia nei propri mezzi ebbene il sondaggio ha dato questo esito 78 non è un caso 12 è un caso è una riflessione che mi invito a fare ne abbiamo già parlato da quello che si capisce si capta anche così nell'ambiente rosso nero nessuno pensa che sia un caso da lì a dire che i meriti siano solo di slatan ibrahimovic no ma se sommiamo la presenza di slatan ibrahimovic la crescita del forse della squadra anche a livello di condizione uno su tutti teo hernandez gli aggiustamenti di un allenatore saggio e umile e dunque intelligente come pioli per quello che riguarda il discorso schema o modulo ecco che tutti questi fattori hanno portato sì che il milan abbia vinto tre partite stia giocando certamente con più fiducia e sia in crescita sta giocando bene per 90 minuti ha raggiunto i suoi livelli no no nessuno lo dice non fatemi dire il milan ormai ha toccato ha toccato il massimo no è ancora molto lontano il secondo tempo di monza lo ha dimostrato ma a me interessava rivedere la crescita della squadra e sommato i tre fattori che ho appena elencato ecco che la squadra mi sembra che arriva al match con l'atalanta con un diciamo con una qualità mentale e fisica certamente migliore quindi volevo darvi perché quando lancio un sondaggio bisogna dare anche la risposta al sondaggio e la risposta al sondaggio è stata proprio questa grande merito ancora di slatan ibraimovic che secondo i colleghi della gazzetta che hanno detto quello che praticamente vi avevo detto ieri contro l'atalanta avrebbe potuto slatan ibraimovic certamente avere una candidatura autorevole al suo ritorno in squadra ce lo auguriamo e speriamo che questo mio avrebbe avuto una seria candidatura poi si trasformi in realtà probabilmente adesso se pioli che è avvezzo a mettere a sostituire i giocatori diciamo dal 55esimo al 70esimo 75esimo in quel lasso di tempo effettua i primi cambi proprio come sua abitudine mentale non figlia di rigidi paletti ma figlia lui vede quel quella fase della partita fondamentale per qualche cambio ebbene probabilmente se dovesse sostituire ipotesi girù gli ultimi 20 25 minuti in questo momento slatan ibraimovic forse 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 ha superato orighi nella scena e le scelte del dell'allenatore quindi questo è da sottolineare quindi ci aspettiamo ma non io non i tifosi ma secondo me prima di tutti slatan ibraimovic perché adesso sta bene ha giocato ieri 25 minuti ha giocato nella partitella contro la primavera in maniera direi in maniera crescente quanto a condizione rispetto alle parte alle agli allenamenti precedenti vi ricordate che alla prima conferenza stampa stefano pioli aveva detto no non ha nulla nelle gambe adesso ha almeno 25 buoni minuti vista la mobilità di ieri oggi capiremo se megnana continua ad allenarsi con i gioccoli compagni come florenzi insomma stiamo al costiamo arrivando sempre più concreti a quella possibile presenza dal primo minuto contro l'atalanta e mi piacerebbe molto anche perché avevo detto due dieci giorni fa obiettivo atalanta mi piacerebbe ogni tanto indovinare ogni tanto tra virgolette per quello che riguarda invece diciamo il mercato due punti ci tengo a sottolineare innanzitutto il punto che mi che mi sento e mi sento di sbilanciarmi è che il milan che cerca me certamente andrà a trovare qualche parametro zero interessante importante anche costoso da quello che percepisco rispetto e ve l'ho già detto nei video scorsi ma lo ribadisco ancora rispetto alle strategie di qualche mese fa sta entrando nell'ordine di idee che il parametro zero che costa più della borderline del milan intorno ai quattro e mezzo e costa più di quella cifra cifra che ha frenato magari su ziek l'ipotesi di acquisto ebbene il milan sta entrando nell'ordine di idee di superare questa cifra quando si tratta di giocatori a parametro zero d'altra parte se sono giocatori e mi sembra abbastanza semplice facile da capire se sono giocatori a parametro zero molto validi vuol dire che hanno innanzitutto un costo elevato di ingaggio e dunque sono giocatori che se tu vuoi andare a prendere per migliorare la caratura della tua squadra devi per forza pagare in una cifra importante per l'ingaggio e mi sembra di capire che il milan sia entrato nell'ordine di idee poi da dire così adesso sulla carta teoricamente a vedere poi che in pratica così verrà attuata la strategia del milan quest'estate da valutare però andare a prendere un giocatore a parametro zero che costi tre quattro milioni di euro vuol dire che non è un grandissimo giocatore stiamo parlando di giocatori che possono aiutare il milan a migliorare a proposito di aiutare il milan a migliorare attenzione a un giocatore che in questo momento è seguito da tutta da tutta europa e parliamo di giannis constantias un giocatore del 2003 del pauc salonico un trequartista 1 e 78 è nato a volos volos ed è un giocatore che in questo momento è uno dei giocatori più seguiti da tutta europa piace anche al milan piace anche al milan il costo mi dicevano ieri che adesso quando vai a prendere c'è stato un altro giocatore che il milan non so il nome ha sondato sul mercato spagnolo per esempio e ha chiesto la valutazione adesso per un giocatore anche 2002 2003 ti chiedono e viene dal campionato greco che non è non offendiamo nessuno non è un top campionato rispetto ai soliti 5 o 6 e bene ti chiedono 20 milioni di euro ecco perché diventa difficile fare il mercato soprattutto quando non hai i 200 milioni di 200 milioni di budget perché se tu hai 50 60 e già devi pagare 20 un ragazzo del 2003 e con tutti i problemi che può che possono nascere per un giocatore abituato nel calcio greco che venga nel milan il campionato italiano e giocare le coppe europee chiaro che diventa molto complicato mi parlavano proprio ieri di un di un giocatore ripeto spagnolo che ha chiesto 20 milioni di euro non so il nome ma so che anche il giocatore greco in questo momento ha una valutazione che se vai su transfer mark c'è scritto 400 mila se però devi andare a bussare alle porte del pauc salonico ti chiedono 20 milioni di euro così mi dicono lo vuole tutta europa c'è sono club come salisburgo il civilia e altri club non ho letto club inglesi che in inglesi non vanno anche per questione che è meglio per loro muovere giocatori all'interno dell'inghilterra che andare a prendere giocatori fuori dall'inghilterra però non vanno mai di solito a prendere questi giocatori vogliono sempre che ci sia il passaggio intermedio tanti giocatori sono passati magari dal salisburgo all'ipsia e poi in inghilterra difficilmente vanno direttamente dal da questa club minori direttamente in inghilterra vogliono sempre verificare anche un salto di qualità nei grandi club questa è la filosofia della così dei club inglesi ma torniamo a concentrarci sul milan abbiamo parlato di ibraimovic abbiamo parlato di megnan che mi han detto ieri effettuare due o tre parate straordinarie e mi dicono anche per esempio riguardo a megnan che rischierebbe meno giocando dopo 4 5 6 allenamenti subito in prima squadra rispetto a quando è entrato con il problema al polso nella scorsa stagione lì c'erano magari delle ale e dei rischi mentre se verrà inserito in prima squadra da titolare certamente l'allenatore Pioli ha studiato ogni minimo rischio insieme allo staff sanitario insieme allo staff e i suoi colleghi dello staff tecnico che curano i portieri e parlando anche ovviamente con i dirigenti sarà una scelta comune e ovviamente col giocatore e allora per quello che riguarda poi la partita con l'Atalanta la seconda domanda è ma Benasser? Benasser gli affaticamenti non danno mai delle sicurezze per quello che riguarda dei recuperi adesso sarà da valutare se Benasser effettuerà il secondo passaggio palestra allenamento sul campo personalizzato qualche giorno che sta effettuando allenamenti personalizzati sul campo vediamo se incomincerà a unirsi alla squadra l'allenamento è di questa mattina avremo i risultati per capire qual è sia la situazione e in questo caso aspetteremo Firenze per poi averlo al massimo contro il Tottenham che è il traguardo più importante di questo fine inverno parliamo di Coppa chiaramente la partita con l'Atalanta un'Atalanta che ho letto oggi annuncia addirittura Boga, Lukman e Oliund là davanti quindi un'Atalanta a trazione anteriore non sappiamo se avrà Pasalic giocatore che ricordiamo con affetto per due motivi oltre per il rendimento che ha dato in campo oltre per il gol decisivo nella finale di Doha ma non dimentico che in una vittoria facilissima dell'Atalanta a Milano purtroppo qualche anno fa ebbene segnò un gol e con grande educazione con grande senso di affetto nei confronti dei tifosi non esultò e abbracciò i suoi compagni e basta quindi un bravo ragazzo che ricordiamo con affetto e con simpatia. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti e attivate la campanella e dal link in descrizione l'applicazione numero 10.